44 gatti in fila per 6 con resto di 2 Marciarono compatti in fila per 6 con resto di 2 Suoi tappi allineati in fila per 6 con resto di 2 E code dritte dritte in fila per 6 con resto di 2 44 gatti in fila per 6 con resto di 2 Marciarono compatti in fila per 6 con resto di 2 Con resto di 2 Bravo amore Che bellino Vengo 7 e 10 Si è bloccato il fila Ah vedi ma che succede? No perché vedi no il tema è che loro sono bravissimi Che si è rotta la macchina dei filmati C'è proprio un evento impossibile da prevedere Avevamo portato il piccolo coro da Bologna Allora Costanza Andreoni Ciao Costanza 9 anni Linda Benini Nicole Curatolo Sempre 9 anni Michele Giunchi 6 anni Michelle Mariele scusami Mariele perdonami Mia Larizza 7 anni E c'è anche Adam Nicolini 5 anni giusto? Si è aggiustato il filmato possiamo ripartire? Intanto Sabrina raccontaci due cose perché ovviamente sarete protagonisti a Natale di nuovo Certo è una situazione bellissima oggi perché possiamo ufficialmente citare le date in cui vedremo lo zecchino d'oro Il 22, il 23 e il 24 dicembre sono le date ufficiali quindi le citiamo e allo zecchino d'oro non si può che non sposare quello che è la mission dell'Antoniano C'è operazione pane perché lo zecchino canta per operazione pane Esatto non dobbiamo dimenticare che c'è ovviamente tutta un'opera di aiuto per le famiglie più bisognose che soprattutto ora che con la pandemia Con la guerra con l'aumento del costo delle bollette della vita con l'inflazione in generale hanno sempre più bisogno di essere supportate Si c'è grande sensibilità nei confronti di queste situazioni di povertà che vanno aumentando E la cosa veramente bella è che la musica diventi concretamente pasti Pasti, sostegno, aiuto, una sponda non solo emotiva ma anche davvero fattiva per tante persone Questo è bello che anche da piccoli si imparino queste cose E non si scordano più se le si impara da piccoli Allora il filmato l'hanno sistemato, si è sistemata la macchina ma facciamo ricominciamo da capo Bene perché l'abbiamo dedicato apposta perché vedete che c'è tutto il coro da Bologna nel filmato E poi c'è una piccola rappresentanza che facciamo Una vanguardia, esatto Vai, un piccolo coro dell'Antoniano 44 gatti in fila per sei con il resto di due Marciarono con patti in fila per sei con il resto di due Con i baffi allineati in fila per sei con il resto di due Nei cote dritti e dritti in fila per sei con il resto di due 44 gatti in fila per sei con il resto di due Marciarono con patti in fila per sei con il resto di due Con il resto di due Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrappia ma non strilla Sorseggia camomilla Lui è mezzo addormentato se ne va Avete capito come fa il coccodrillo? Lui è mezzo addormentato se ne va U la la, u la la, u la la, u la 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 Questo è il balzer del moscerino U la la, u la la, u la la, u la 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 Questo è il balzer che fa la 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 U la la, u la la, u la la, u la 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 Questo è il balzer del moscerino U la la, u la la, u la la, u la 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 Questo è il banzer che fa la 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 Sono le tagliatelle di nonna fina Un pieno di energia e fetto vitamina Mangiate calde con ragù, con ragù Ti fanno il pieno per tre giorni e anche più Wow 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 le tagliatelle di nonna fina Sono molto più efficace di ogni medicina E allora forza dai ma che problema c'è Ci pensa nonna fina a togliere il mio stress Yeah! Bravissimi, bravissimi! Piccolo coro dell'Antoniano, ricordiamo la campagna che abbiamo visto Aspetta che la riprendo qui perché ho scritto i numeri qua Diciamolo insieme magari il numero bambini Brava, bravi Siamo pronti? 4, 5, 5, 8, 8 Fino al 9 dicembre mi sembra 2 euro da rete fissa o donare e chiamare appunto un sms con 2 euro Oppure chiamare da rete fissa e donare 5 o 10 euro Sosteniamo le mense francescane e doniamo un pasto Grazie Siete stati meravigliosi Ci avete dato un respiro di gioia E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno in questi giorni Grazie davvero anche a Sabrina e a tutti voi